Annunzio Vobis Gaudium Magnum Abbemus Papam Eminentissimum Acreverendissimum Dominum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Voetiva Sia lodato Gesù Cristo Carissimi fratelli e sorelle Siamo ancora tutti adolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I Gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma Lo hanno chiamato di un paese lontano Lontano ma sempre così vicino Per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana Io ho avuto paura di ricevere questa nomina Ma ho fatto nel spirito dell'ubidienza verso il nostro Signore E nella fiducia totale alla sua madre Madonna Santissima Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra La nostra lingua italiana Se mi sbaglio Se mi sbaglio mi corrigerete E così mi presento a voi tutti Per confessare la nostra fede comune La nostra fiducia alla madre di Cristo e della Chiesa E anche E anche E anche E anche A incominciare da nuovo Su quella strada Quella strada della storia e della Chiesa Di incominciare Di incominciare Con aiuto di Dio E con Aiuto Dei uomini Di incominciare